Il carbone è una roccia che viene da fossili di alberi e sostanze vegetali. Si usa... Prima gli alberi crescono, ingrandiscono, si sviluppano e poi quando cadono morbi vengono seppelliti da rocce e da sabbie che comprimendoli li fanno diventare fossili e quindi roccia che brucia. Si estrae nelle miniere che possono essere sottoterra o a cielo aperto. Si usa bruciandolo, viene usato soprattutto nelle centrali termoelettriche, è di colore nero o marrone scuro, serve per produrre calore ed è formato da sostanze agilosi e sali di zolfo. Grazie. Grazie.